vi faccio un fioretto giusto un fioretto Sergio ti faccio un fioretto crescete e replicatevi veloci veloci che arriva la nebbia adesso col sole arriva la nebbia ancora tu l'hanno messo dentro questa e l'hanno messa intanto che dai no 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 giri su e esci dall'entrata bravo dai che te lo spruzzo negli occhi chi è il prossimo? negli occhi apri bene gli occhi spampi appena lo sto facendo dai 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 su che ti porta fortuna dopo vai 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 sergio oh si chiama mica preciso per niente questa dai esci dall'entrata bravo uno ha fatto due cinque ho passato il tempo tre ma come fai? tre cinque hai messo i piedi a perdusse ora vai piano al filtrato è che è una moto che gli scappa qua fai la voler 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 ma senza piede fai la voler 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 Dove dobbiamo andare? Questa qui c'è tutta gente giovane e gente che sposta Che cazzo dobbiamo? Andiamo allora andiamo spapi ricciulliamo ancora non ce n'è Cero, cinque Voi spostare Quasi perché c'è la tasca aperta per quello che mi chiede Uno 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 Sì, è vero. Alla prossima Ciao! Ciao! Via, via, via! Grazie!